Bentornati ad Oltre le differenze per l'ultima parte di questo venerdì sera immersi nel mondo arcobaleno. Sì e lasciamo subito la parola a Lalla e i suoi consigli per la lettura. Questa settimana mi è capitato tra le mani un libro ironico e divertente, una specie di dizionario molto particolare. Si intitola Tuo fratello ti ruba i tacchi a spillo? Consulta il piccolo dizionario gay. Di Fabrizio Visconti, un autore fiorentino poco più che trentenne. E visto che stasera abbiamo parlato di professioni, sono andata a leggere sotto questa voce, scoprendo che i gay hanno professioni preferenziali. L'esempio tipico è quello del parrucchiere, ma ci sono molti gay tra i baristi e i professori d'italiano. Gli architetti, prosegue il dizionario, sia uomini che donne hanno invece la fava di essere spesso bisessuali, forse perché in fondo è la struttura che conta. Visconti descrive il suo piccolo dizionario gay come un gioco e dichiara di aver avuto quest'idea per abbattere la barriera che nasconde il gergo che ogni comunità ha e che, dice, serve ai membri di quel gruppo per potersi riconoscere, identificare e parlare tra di loro. Lo scopo divertito è quello di rendere intellegibili i modi di dire in uso anche agli altri, ai non gay, ai neo gay o ai gay che non usano quel linguaggio. Grazie Lalla, davvero un libro molto particolare e anche divertente. E per rimanere in tema di scrittura, segnaliamo con molto piacere che l'Arci Lesbica Nazionale ha pubblicato un bando per un premio di laurea in studi sul lesbismo e sul genere, con lo scopo di sostenere quelle studiose che riflettono sulle trasformazioni del mondo femminile e dell'amore tra donne. Il premio va dai 500 ai 1000 euro e per chi fosse interessata è possibile scaricare il bando integrale dal sito www.arcilesbica.it, ma fate in fretta perché scade il 15 giugno. Ma un'altra iniziativa dedicata esclusivamente alle donne sarà invece a Roma. Com'è che ti concentri, Elle, su tutte queste iniziative al femminile? Non è che, insomma, mi sto preoccupando. Natascia, per favore, a che facciamo tipo... Elle non era gay ma adesso sta con lei, ma che cos'è, scusa? La canzone di Bobia! Ecco, bene, ma pochi indirittori, poche parole, eh, come si suol dire. Ma fammi dire, per favore, che dal 2 al 6 giugno si svolgeranno le 5 giornate lesbiche. 5 giorni fitti, fitti, fitti di appuntamenti per discutere e riflettere su tanti aspetti del mondo femminile. Femminile. E allora lo fai apposta! E non mancheranno anche esposizioni d'arte, installazioni, spettacoli musicali e teatrali. Va bene, smetto di prenderti in giro. Ti sei decisa un po' tardi perché siamo praticamente a conclusione, però vabbè. Adesso sai chi c'è della redazione per parlarci di cinema invece? Mi sa che c'è la Rory. Buonasera Rory, che film hai portato con te? Buonasera a tutti, ho con me l'apparenza inganna di Francis Weber. Con questo film vogliamo giocare un po' sulle apparenze, su quanto spesso sia ingannevole lo sguardo con cui gli altri ci vedono e sul fingersi diversi per mantenere il proprio posto di lavoro. Nel film del 2001, infatti, il protagonista è un tipo anonimo, frustrato e poco attraente. Impiegato di una ditta di profilattici, scopre di essere prossimo al licenziamento e decide così di suicidarsi. Lo salva la trovata di un amico, fingersi gay. E l'espediente funziona perché la compagnia che produce i preservativi non può licenziare un omosessuale senza farsi una pessima pubblicità. Da qui nascono una serie di avventure ed equivoci divertenti, ma quel che ci interessa è che la vita del protagonista cambia completamente, perché è cambiata l'opinione che gli altri hanno di lui. È un film scritto in tono leggero ed inonico, ma che butta all'aria con intelligenza le oghe comuni sull'omosessualità e smaschera con divertità attiveria l'ipocrisia su cui si fondano spesso i rapporti di potere. Ma cosa fondamentale, l'orgoglio gay ne esce pulito, perché parlare di diversità in questi termini è sicuramente il modo più efficace ed immediato per prendere di petto il problema e superarlo. Il messaggio che la media vuole trasmettere è che siamo solo ciò che gli altri vedono, o meglio ancora, ciò che gli lasciamo credere di essere. Benissimo, grazie Rory e grazie anche a tutta la redazione di Oltre le differenze. Senza di loro Ere saremo perse. Eh sì, in effetti sì, guarda davvero. Sono bravissime e ci danno sempre dei consigli utilissimi. Nat, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Purtroppo sì. Non piangere. Lo sai che probabilmente alla fine farò una frignatina? Ma io toglierei probabilmente, perché conoscendoti comunque... Ricordiamo a tutti, recapiti per interagire con noi, per telefono al 366-28-09-050 per mail a redazione punto oltreledifferenzechiocciolagmail.com ma anche su Facebook e sul nostro blog di Splinder. Per adesso vi auguriamo una buona serata e vi aspettiamo venerdì. Che dici Nat, vogliamo anticipare il tema della prossima puntata? Vale assolutamente la pena, parliamo di bisessualità, quindi se avete segnalazioni, storie e opinioni da inviarci, fatelo subito. E noi ci troviamo sempre qui su Antenna Radio S, venerdì prossimo, pochi minuti dopo le 21, per andare insieme Oltre le Differenze. Il venerdì dalle 21 alle 22 su Antenna Radio S. Oltre le Differenze.